Due settimane dopo la prima campanella, nelle scuole di Bassano sta per riprendere anche il servizio mensa per gli alunni che fanno tempo pieno o rientri. La riorganizzazione ha richiesto un corposo lavoro nelle scorse settimane. Abbiamo fatto parecchi incontri con i dirigenti delle varie scuole, ma anche con l'ente che gestisce la somministrazione dei pasti per i ragazzi. Abbiamo potuto constatare tutte le problematiche, le abbiamo messe a fuoco, lunedì si parte, poi giovedì incontreremo i vari dirigenti perché vogliamo fare anche un monitoraggio per valutare come è la ripartenza, se ci sono delle modifiche o degli interventi da fare, qualora ci fosse qualche problema. In quest'anno scolastico si dovranno cambiare molte abitudini su come e dove alunni e insegnanti consumeranno il pranzo. Spesso utilizzeremo le monoporzioni e spesso i ragazzi purtroppo mangeranno in classe. Verrà fatta una disinfezione prima del pranzo, sui banchi e anche successivamente. Tutto in sicurezza quindi con queste novità che in breve diventeranno azioni quotidiane grazie alla collaborazione di tutti. I dirigenti sono stati estremamente attivi e abbiamo fatto parecchi incontri per far sì che tutto vada alla perfezione. Grazie Grazie Grazie.